Oh! D! Oh! 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 Questa è la schermata più intreppante che abbia mai vista. D, maiuscola, F! F! H! H! J! J! N! IT! N! J! J! Esplosione! a Dove eravamo arrivati Dovevo morire per ricordarmi dove eravamo Ok andiamo di qua Sto soffrendo anch'io Perché mi fa così tanto schifo? Arrivederci, ciao l'ora Eh ma lì sotto cosa c'è? Minestra Minestra Spero che cadi Ah Si Allora di qua c'è la lava 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 Qua non c'è lava Dove devo andare? Lava Vado per la lava Hop Yes Che gioco di merda Oh Sei camminato sullo schifo Ah Oh 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 Ok Ci sono Ah 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 Cosa che tira? Nell'elipello Eh No Oh Fratello no Si riattiva Si riattiva Si riattiva Ah già giusto è vero Quindi devo rifarlo Oh Eh 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 Addirittura Cosa? No dicevo si trapassava Ah Eh Eh Ok Ah 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 Adesso si richiude Oh Ok Allora adesso cosa devo fare Scendere Si discorso Scendi con pazienza mamma mia che comandi di merda i comandi sono veramente ma lo sai che ci hanno fatto un remake di questo una grafica bella ma lo spero caro il principe dei persi è quello della Ubisoft ah quello è fatto bene salta ma che era dall'altra parte oh mamma mia sto male io per te meno male che sono qui a giocare se no questo avrei spaccato il computer te avrei spaccato la faccia mi fa capace è venuto un infarto si mi incola un po' ok di qua non c'è ma poi perchè la lava è così la lava è così bollente bella perchè la lava è bollente perchè viene dalla terra magari l'unica cosa che è fatta bene di grafica su quel cazzo è fuoco liquido no dico l'unica cosa che è fatta bene sono quelle cose lì che vengono fuori dalle polche ah dalle trappole eh sono fatti in HD quelli ah si si hai visto con che è naturalezza si muovono e che giù che vuoi fare? sono io oh torna su no 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 immagino ti faccia to 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 ma perchè? è una figa che controlli di me mi fa incazzare per camminare devo tirare fuori la spada ogni volta dove vado? destra o sinistra? destra? e piantano di ballare non saltare di nuovo su quella cazzo di lava c'è uno scheletro davanti qua nooo! vuoi combattere! c'è scheletro e lava, no! cacca sotto cazzo io non mi fido ad andare di destra ho visto quelle punte e mi sono fatto la cacca sotto non ti conviene fratelli si! ahahah 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 spero mi ha aumentato la vita salto! coglione cazzo coglione oh mamma mia devo rifare tutto ricordati che c'è il tempo Lore c'è il tempo cazzo si lo so che c'è il tempo abbiamo perso tutto quel tempo con le sabbie le sabbie le sabbie e i fallimenti e anche lui non è che stiamo scherzando se cosa mi prendo qualcosa da mangiare salta! smettila devi smetterla di mangiare così tanto ma non mangio mai cazzo sto mangiando gli spinaci sono in denutrizione porca cazzo ahahah ma cosa stai dicendo? ma è vero e se ti ho visto l'altra volta mangiare una ciambella ah vabbè ma quella lì era una ciambella con crema ahahah salta! e poi posso permettermelo tu te la puoi permettere? si si e beh dopo che mangi solo spinaci se mangi un dolce ti senti come un santo eh vabbè grazie ma non devi ti escono fuori le ali ti cresce una oreola sulla testa ah pure? si poi se vuoi voli però con me non è mai successo perchè le ali si sono sempre spezzate mi sono sempre chiesto per carlo non credo sia il peso eccessivo no non lo è per niente bevi giù da pelu addirittura ma più che altro le ali erano fatte di carta qua è il problema ah ecco allora piano occhio alle punte infatti salta punte ah allora di qua c'era la lava e la oh cazzo ancora basta salta tira fuori la spazio azione muori muori eh vai sei troppo alto fratello si si e si lanciava si eh al contrario addirittura no allora non so dire più perchè cazzo di qua perchè? non lo so allora che mi fidate a te c'è una sorta di letto la spezzata vedi ah mi attiva ah ah che culo che culo veramente oh cos'era? cosa è stato? cosa ha fatto quella roba? ah oh ehi è la porta della fine come lì ahah adesso devi sentire qualcosa ahah allora salta la trappola di sotto ahah 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 salta cosa fa? non lo so ho paura sai oh ha aperto la porta qua ma io devo andare di lì eh lo so ma io devo andare di lì oh in guardia lava ahahah se l'ha messa però c'è un motivo stai attendo ok o per finirci dentro oppure c'è un passaggio segreto ah c'è pure un passaggio segreto che ne so oh si è aperta la porta dai dobbiamo allora dobbiamo andare piano piano perchè sei mangiato un piede del il pavimento guarda perchè non scende? ok oh piano piano scendi dall'altra parte un deficiente ahahah si fa vedere l'animazione si l'animazione di quando va dentro appena va dentro appena va dentro ah? si che cosa? ah fa pure rallentare ah ahahah oh c'è da salvare questa password chubecca? c'è da salvarla ehm f g b jk jk ma chi se lo ricordo? ah siamo ancora nella caverna oh mamma mia e gli zana e dobbiamo ancora decidere perchè non c'è un perchè non c'è un altro che commenta al posto mio sinistra questa volta andiamo a finire va bene che siamo una coppia con le palle io sono la palla e tu sei una palla però qui sopra che cosa c'è? un terzo sostituto mi farebbe comodo ti sta bene ah come cazzo hai fatto? ok dove devo andare? scena quale? sinistra sinistra? si si così? si ahahah ok io ci ho provato ahahah come consigliere faccio schifo si decisamente ahahah 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 sei cagato addosso ahahah ed è ancora vivo dopo una caduta dico che cosa c'è? ci sono io ahahahahah che cazzo? ci sono punte ma nooo ma che gioco di me di questa volta andiamo a destra siccione ce la faccio ad arrivarci? nooo almeno che non può beh啦 no Darker stai礦 aik aik minchia stavo dicendo ma quando cazzo è che finisci al livello? ehi questa è la porta della fine almeno si vuole un true va bene no click arriviamo 1 2 2 2 3 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 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 14 14 15 15 15 16 25 21 22 23 21 22 22 22 23 Scusami, la velocità Boh, è blu Ti avvenena Ti avvenena! Ma lì ci sono punte! Adesso basta, finirò nel modo più epico Finirò questa puntata nel modo più epico Dinanzi alla porta della fine C'eri 4 C'ero 4 Pottomaca I I I I Grazie a tutti.